ciao come va? benvenuto a un altro video di ASMR in italiano come sempre a 3000 like il prossimo video in italiano il passato ha superato alla grande la richiesta quindi e speriamo anche questo così facciamo un altro ok allora rilassati preferibilmente metti le cuffie e ti invito a goderti questo video di rilassamento ciao vediamo se oggi riesci a non addormentarti dopo di questa prova di ASMR che ho portato specialmente per te mi raccomando non devi imbrogliare ti acconsiglio di vedere tutto il video perché sono certa che quando finirai di vederlo starai dormendo profondamente ho portato per te dei suoni che a me personalmente rilassano tantissimo forse i miei suoni preferiti in assoluto sono quelli di acqua quali sono i tuoi? formicolio 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 non so se riesci a sentire il suono della pioggia di solito molto rilassante lo sapete che quando ho comprato questo oggettivo che la verità non ne ho un'idea per cosa sia perchè penso che sia un oggetto soltanto per fare smr non posso credere che possa servire a qualcosa altro chissà se quello che lo ha progettato aveva questo scopo secondo me no 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 che la mia persona favorita al mondo sta dormendo la mia persona favorita al mondo sta dormendo la mia persona favorita al mondo 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 la mia persona favorita la mia persona favorita la mia persona favorita al mondo 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 la mia persona favorita da la mia persona favorita al mondo la mia persona favorita al mondo Edin��èo ii Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.